... ... ... ... ... Internazionali di Tennis, Città di Perugia, Gima Tennis Cup, campo centrale del Tennis Club Perugia, accogliamo in campo con un applauso Edoardo Lavagno! ... ... benvenuti alla quinta testa di serie, Alexandra Muller! ... Gioco Lavagno ... Gioco Muller ... ... Il lavagno c'è sempre stato, era nei Fusius a fare la gavetta Mi godo il momento, vediamo domani E adesso accogliamo sul centrale la settima testa di serie Fabian Marozan Accogliete sul centrale anche la prima testa di serie, Pedro Cacin Grazie per la prima testa di serie La part è un po' diverso, è un po' diverso Benvenuti alla finale degli internazionali di tennis città di Perugia, GIMA Tennis Cup Accogliamo in campo il primo finalista Edoardo Lavagnò Accogliamo con un applauso anche la settima terza di serie, Fabian Marosan Che vada Nignini premia il campione degli internazionali di tennis città di Perugia, GIMA Tennis Cup, Fabian Marosan Grazie a tutti